Dopo questo momento veramente difficile che abbiamo trascorso, adesso lo sguardo è rivolto al futuro, la speranza di riprendere una socialità che per i nostri ospiti è importantissima. Chiaramente non dobbiamo dimenticare la sicurezza, quindi dobbiamo trovare l'equilibrio di far coincidere le due cose. L'Istituto Fossombroni, conosciuto dagli aretini come Casa Pia, si prepara a riaprire le sue porte alle visite dei parenti. Dobbiamo cercare di tornare piano piano alla normalità e questo è un primo passo. Tra i luoghi individuati per le visite, il primo resterà il gazebo nel giardino esterno, già attivato nell'estate 2020, che adesso sarà affiancato da un secondo spazio allestito sempre all'aperto nel cortile interno della Casa Pia. Può essere utile sia, è stato utile anche ad aprile perché abbiamo fatto alcuni incontri prima di Pasqua, perché comunque c'è all'esterno e gli ospiti sono protetti, però comunque sono a distanza di sicurezza, c'è il vetro, ma volendo si può anche aprire quando vengono mantenuti da almeno due metri di distanza. E anche d'estate quando al gazebo abbiamo sperimentato l'anno scorso che luglio-agosto è anche caldo, nelle ore, in alcune fasce orarie. Qui non ci batte mai il sole, per cui può essere anche in queste situazioni di temperatura eccessiva. Il terzo ambiente invece sarà interno alla struttura, in una stanza esclusivamente dedicata allo svolgimento delle visite, anche in caso di maltempo. È un Plexiglas, lo spessore di 0,5 mm, che dovrebbe garantire sicurezza, quindi non passaggio di droplet, però allo stesso tempo non è fono assorbente, quindi c'è una bella, sembra quasi appunto di essere, permette ancora proprio una vicinanza. La realizzazione di questo spazio è stata possibile in virtù del prezioso contributo del pilota del team Rossi 4x4 Stefano Rossi e del padre Roberto. Le visite saranno ovviamente scandite attraverso un'attenta programmazione per contingentare gli ingressi e garantire l'incontro periodico e continuativo dei familiari in sicurezza. Quanto vogliano di rivedere parenti? Tantissima, tantissima. È normale perché chiaramente l'affetto dei familiari, la vicinanza dei parenti è importante. Insomma, alla Casa Pia tutto è pronto per questa importante ripartenza affettiva e relazionale. Dopo l'ordinanza del Ministero della Salute di sabato 8 maggio, che reca le modalità di apertura ai parenti degli ospiti, adesso si attende che venga recepita e disciplinata dalle singole regioni.